Chiudiamo adesso questa ampia pagina dedicata alla Madonna di San Luca con la notizia di un altro grande momento di devozione popolare che avrà luogo invece domani. Si tratta infatti della festa di Santa Rita che gode tra i bolognesi, soprattutto tra le donne, di una grandissima venerazione. Nella Basilica di San Giacomo Maggiore degli Agostiniani si celebrerà la Santa Messa ogni ora, dalle ore 6 alle ore 23. Saranno presenti numerosi confessori e sacerdoti per la benedizione tradizionale alle rose. La benedizione delle autovetture si terrà invece in via Selmi dalle ore 8 alle ore 22.